Bella a tutti raga, bentornati nuovo nel mio canale Oggi farò qualcosa di diverso Cos'è che faccio? Un vlog, scusate ma sto mettendo il navigatore della macchina Cos'è che facciamo oggi? Praticamente, cioè che facciamo? Che brutta! In sostanza stiamo andando... Sembra bellissima? No, stai zitto Stiamo andando a Monselice perché alluggeremo, passeremo insomma la notte lì Dotto che domani è San Valentino e il signor Cougo ha preparato una bellissima sorpresa per me E mi ha regalato questo piccolo pacchetto di San Valentino Dove insomma c'è questa dannata sweet relax in questo albergo a 4 stelle Poi c'è il pranzo domani di San Valentino e la colazione a buffet Scambieremo i miei regali di San Valentino e ho detto Perché non facciamo un vlog che non ne faccio uno da un secolo? Sarà 5 mesi più o meno Chiamo a dopo Grazie a tutti Grazie a tutti Bene nel frattempo mi sono lavato, preparato e tutto quanto Nel mentre ho finito da due minuti di preparare la sorpresa per la Ele Adesso vi mostro un po' quello che ho fatto Grazie a tutti Grazie a tutti Bellissimo Grazie a tutti 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 dobbiamo dormire domani c'è una colazione che ci aspetta andiamo a sorcerci alle 8 e mezzo almeno forse anche 8 sai è vero infatti forse anche 8 quindi forse conviene che andiamo a letto a dormire un minimo e penso domani continuare al vlog perché c'è la parte della colazione figa che non si può perdere e il pranzo direi soprattutto il pranzo vedo l'ora guarda lui sembra un nonno comunque con questo pigiomo anzi il bambino col pigiomo righe poi tralasciando il mio brufolo anzi brufolo non è per l'esattezza e niente detto questo buona notte a tutti nel frattempo non ci siamo svegliati e a breve andremo a fare colazione appena la ele si finirà di prepararsi insomma non so quando ci metta però vabbè nel mentre io sto guardando scubidu però vabbè e niente vi faremo vedere a breve come sarà la super colazione che ci aspetta non sono pronto buon'è buon'è che bella che notte stai mangiando sì? no guarda buono? sì però ora sì ma lei non tu sei per il petra è vero? certo? sì sì è vero 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 ora è è vero è vero in noi siamo già tornati a casa da un paio di ore quattro ore ormai più o meno siamo già messi in tuta e non dico che breve andremo a letto perché no però siamo pigiama già pigiamati per stare in caso insomma nel mentre lei sta cincenando col telefono ma è quello che è insomma che bella che sei sono in tutte struccate sempre fiosi detto questo spero che il mio video vi sia piaciuto lasciate like commentate iscrivetevi attivate la campanella e noi ci vediamo al prossimo video ciao